allora ragazzi state pronti? tu quanti anni hai? 88? va bene vai, puoi partecipare non lo so quanti ripestaggi ci sono, lo decidiamo alla fine pronti? c'è anche un 25enne infiltratoli, pronti? 1, 2, 3, via! tutti indietro per favore, c'è max, si ecco, quello che avviene la prescrizione lì, non lo dupate e si arrabbia, quella lì, con la magliatura sono tutte chi inturba, no? c'è anche una tegra bellissima, volete? bellissima, ho i capellerini, non lo so ma per te chi vince? massimo perdi ciao carlos massimo perdi bravi dai va bene bravi